Ben ritrovati degli followers della Fairy Family Film, pochi giorni fa, altro ieri, è uscito un Talking Time che mi invito a recuperare, oggi invece tocca a me con Registi al Cubo. De cui si tratta? Velocemente, si tratta del nostro forum, diciamo così, in cui esploriamo la filmografia di un regista, individuando tre film che secondo noi ben esemplifichino quelle che sono le caratteristiche del regista, la poetica del regista. Oggi il regista che abbiamo scelto è un regista vivente, contemporaneo e italiano, e questa è quasi una novità, potremmo dire, per la Fairy Family Film, visto che molto spesso il cinema italiano non lo affrontiamo quantomeno nei nostri video. Il regista scelto è Paolo Sorrentino. Prima di cominciare però, sigla! Oltre a Sorrentino, questo regista al cubo ha un'altra peculiarità, nel senso che non affrontiamo solamente tre film di Sorrentino, meglio sì, tre film di Sorrentino, ma che hanno un altro filo conduttore, che è Tony Servillo. Tony Servillo è, potremmo dire, uno degli attori peticcio di Sorrentino, uno che è stato presente in molti suoi film e molto probabilmente nei suoi film per ora più importanti. Parliamo di film, ovviamente di cinema, non consideriamo le serie TV che Paolo Sorrentino ha negli ultimi anni affrontato degli Unpop, negli Upop, quello meriterebbe un discorso a parte. Il primo film, quindi, andiamo in ordine cronologico, di Paolo Sorrentino è Le Conseguenze dell'amore. Le Conseguenze dell'amore è uno dei primi, primissimi film proprio di Sorrentino. Il secondo, dopo Un uomo in più, se non ricordo male, è un film del 2004, un film che vede come protagonista, appunto, Tony Servillo. È una storia d'amore, una storia romantica, potremmo dire, sui generi, scostruita molto bene da Paolo Sorrentino perché, potremmo dire, quasi mischiata con argomenti del thriller, del noir, infatti le vicende di questo protagonista, di questo uomo, di un'entità appunto del vetato di Tony Servillo, si uniscono, ecco, a un traffico di droga, di illeciti, è appunto una storia d'amore, con la barista dell'albergo nel quale si trova per fare i vari scambi, insomma, illegale, una storia che ha anche da fare con la mafia, insomma, una storia d'amore che è un finale estremamente forte, pungente, multicastico, a cui rimane nella memoria e che, potremmo dire, ci ha convinto, ci ha convinto. Il secondo film di Sorrentino, che vogliamo nominare, il Divo, il Divo del 2008, è forse il primo grande film di Sorrentino, il film che consegna, potremmo dire, Sorrentino al panorama non solo italiano ma anche internazionale, cinematografico, ecco. Il Divo racconta la storia di Giulio Androtti, per chi ne lo sapesse, interpretato ancora una volta in maniera magnifica, estremamente convincente da Tony Servillo, truccato per l'occasione, infatti il trucco ricevuto addirittura da Nomination agli Oscar, poi non vinto, ed è, direi, il primo film politico di Sorrentino che negli ultimi anni, prima di dedicarsi quasi interamente alle serie Divo, ha girato anche un film su Berlusconi, ancora una volta interpretato proprio da Tony Servillo. Il Divo è un film che racconta appunto un pezzo della vita di Androtti, non intende certamente, come dire, esplorare vita, morte, miracoli di Androtti, anche perché la vicenda solo politica di Androtti praticamente occupa diversi decenni di storia, di storia italiana, questo film si concentra invece su due, tre anni, insomma, all'inizio degli anni 90, quando Androtti inizia a essere, come dire, il suo nome inizia a essere accostato alla mafia, alle stragi di mafia, insomma. un altro film molto importante e che colpisce per la ricostruzione dell'epoca e per l'interpretazione magnifica di Tony Servillo. Tony Servillo che è protagonista anche del terzo film che nominiamo, terzo ultimo film che nominiamo, La Grande Bellezza, ecco, La Grande Bellezza è sicuramente il film più famoso da Tony Servillo, siamo nel 2013, più famoso anche solo per il fatto che ha vinto l'Oscar, il miglior film straniero, oltre altri migliaia di premi internazionali, ed è il primo film italiano che vince l'Oscar, il miglior film straniero, dopo molti, molti anni, erano anni che l'Italia non portava a casa, ecco, quella ambita statuetta. È un film che ricalca le orme dello dolce vita di Fellini, La Grande Bellezza, racconta le vicende, le vicissitudini, sempre serali del protagonista, Jeff Campardella, interpretato ancora una volta in maniera stupefacente da Tony Servillo che vaga, ecco, un intellettuale che, come dire, vive di un successo passato, ha scritto un libro quando era più giovane, vive ancora praticamente di quel successo, e in maniera molto disillusa, a volte pungente, antipatica, quasi svela e rivela quelli che sono le manie della Roma notturna, ecco, perché la dolce vita è abitato, ovviamente, a Roma, l'umanità della Roma notturna, cioè le varie personalità che vivono nella Roma notturna, senza che ci sia un particolare filo conduttore che leghi questi vari episodi, così come la dolce vita di Fellini non aveva un vero e proprio filo conduttore, se non il protagonista, alcuni personaggi che voltavano attorno a lui. È probabile che l'Oscar al miglior film star nero sia stato consegnato a Sorrentino anche per questo motivo, proprio perché, come dire, negli Stati Uniti c'è un po' il mito di Fellini, c'è un po' il mito della dolce vita e quindi l'Italia cinematograficamente è Fellini, sostanzialmente, è quello che ha ricaricato in quel modo le sue orme, sicuramente, viene premiato. Ma il film merita, sicuramente, un film molto importante, un film che nel panorama cinematografico italiano ha sicuramente un ruolo, devo dire, quasi angolare, ecco, ha segnato sicuramente la storia, quantomeno del decennio che è appena trascorso. Siamo arrivati alla fine questo episodio di Gister Cubo, per cui abbiamo affrontato la cinematografia attraverso tre film in particolare di Paolo Sorrentino, un regista che ha fatto in realtà pochi film, meno di una decina, andando così a memoria. Intanto è tutto, mettete un mi piace, recuperate i nostri video, gli ultimi video soprattutto, abbiamo fatto uscire diversi video negli ultimi sette giorni, come The Walking Time, e la recensione di Snow Pears, una serie presente su Netflix, recuperatela, è una grande serie, soprattutto se avete amato il film di Bon Joon Go, un regista che noi amiamo particolarmente, rimaneteci a fianco, fateci sentire il vostro affetto, oggi è il Fairy Family Friday, quindi andate sui nostri canali social, partecipate ai giochi, i link sono qui sotto, potete vincere dei premi simpatici, ecco, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con la Fairy Family Film. Ciao a tutti!